ciao buongiorno allora come sempre facciamo il saluto post mettiamola così diretta del martedì mattina 9 30 dopo ben due settimane si ci ritroviamo ci siamo ritrovati a parlare come sempre di rock in realtà ci siamo ritrovati a parlare di questo libro storie di un'ordinaria follia rock dove ho estrapolato qualche racconto di artisti veramente particolari dove la pazzia la musica insomma non si capisce mai bene effettivamente che cosa ci sia di vero oppure no dicevo è stata una chiacchierata come sempre vabbè dove abbiamo ascoltato anche della musica ma insomma dovendo occuparmi anche io dello stegista e di altre cose insomma non sono potuta riuscire bene a così ad ascoltare tutto quello che mi avete raccontato però sono stata contenta perché effettivamente anche oggi eravate tantissimi dopo tanto tempo mi fa piacere che come sempre rock sia di vostro interesse e che quindi in qualche modo possa diciamo così essere al centro delle nostre chiacchierate e vi dicevo anche di mandarmi magari dei suggerimenti di libri dedicati a rock che magari potrei leggere e perché non recensire per voi anche tramite musica come ha scritto nico che mi ha detto che mi consiglia le storie dell'almanacco tacchi pacchi e trucchi rock quindi sono già andata a cercarlo nico visto anche chi è l'autrice insomma ho già chiesto anche la possibilità magari di realizzare un'intervista quindi chi lo sa magari prossimamente in un nostro martedì potremo ritrovarci a raccontare anche questo libro per cui intanto vi saluto vi ringrazio come sempre vi ricordo anche questo libro se non l'avete fatto leggetelo perché è veramente interessante per il resto vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a martedì prossimo però stavo pensando che siccome insomma diventa sempre un po problematico iniziare i tardi la la nostra diretta e quindi magari non riuscirà anche a chiacchierare insieme a voi vi chiedevo se potrebbe essere fattibile magari iniziare alle 9 quindi dalle 9 alle 10 per avere più tempo anche per dialogare e io e voi insomma fatemelo sapere se può andare bene alle 9 così ci ritroviamo martedì prossimo alle 9 come sempre con altra rock con altre puntate con altri libri con altra musica curiosità e tutto quello che voi avete voglia di così condividere con me anche tramite la mail imh libuno chiocciola libero punto it ciao alla prossima ea martedì ciao